Musica Spiega un po' che cos'è il Prozen È un raduno di pazzi che si fermano per tre minuti senza nessuno scopo, senza nessun motivo e lo facciamo oggi qui a Ravenna e vediamo come va a finire Ok Scusa ma tu sei addetto alla tromba? Mettiamoci un po' più in lato Vai Scusa ma tu sei addetto alla tromba? Scusa ma tu sei addetto alla tromba? Scusa ma tu sei addetto alla tromba? Grazie. 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 Grazie.